Tanti giovani di belle speranze in campo e un giovane ragazzo barlettano che dall'alto avrà certamente gradito l'iniziativa. La Juniores del Barletta e l'Under 17 del Bari si sono affrontate ieri pomeriggio nemichevole nel ricordo di Giuseppe Nanula e nel trofeo intitolato proprio alla sua memoria. Giuseppe, sottocappo della Guardia Costiera di Olbia, è deceduto a soli 27 anni in seguito ad un incidente, mentre eseguiva un controllo di routine nell'area protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. A sette anni di distanza dalla tragedia avvenuta in Sardegna il suo ricordo è sempre vivo tra familiari, parenti e amici, tutti presenti all'evento in attesa che venga fatta chiarezza su quanto accaduto in quel maledetto incidente del 30 marzo del 2011 che ha portato via per sempre un ragazzo solare, allegro e sempre disponibile con tutti. È un evento importante che facciamo ogni anno sia per lo sport sia per una festa per ricordare un fratello, un cugino, un amico e anche perché venga fatta tanta giustizia in questo caso che rivela tanti misteri. I tempi burocratici e legislativi sono molto lunghi per quello che è questo caso, quindi spero che venga fatta giustizia e quelle tante promesse avute diventino realtà. Giuseppe era molto attaccato al calcio, soprattutto il Barletta lo seguiva molto ai tempi e anche da là su lo continuerà comunque a seguire. Sicuramente è una persona speciale perché conoscendo i genitori, conoscendo il fratello di Giuseppe che sarebbe Michele, persone eccezionali. È già il terzo anno che facciamo questo memorial, veramente si fa con cuore. Quindi è sempre un piacere organizzare questo memorial dedicato a Giuseppe Nanula e io lo faccio veramente con cuore, dedicato alla famiglia e dedicato a tutta la città di Barletta naturalmente. È giusto ricordare persone che ci sono rimaste nel cuore e quindi siamo venuti con molta disponibilità e sperando che esce anche una giornata indimenticabile e che poi si possa ripetere ogni anno. Quindi per questo evento e per Giuseppe in particolar modo saremo disponibili e presenti. La vittoria del trofeo è andata all'Under 17 del Bari che l'ha spuntata con il punteggio di 3-2 per la Juniors del Barletta. Si è conclusa comunque una stagione ricca di soddisfazioni in cui è stato bissato il titolo di vice campione di Puglia già ottenuto nel 2017 e mancata in pratica soltanto la ciliegina sulla torta nella finale regionale giocata al Vito Corlo di Fasano e persa contro i Salentini del Soccer Dream 2000 di Parabita. La seconda finale che perdiamo cercheremo di fare meglio naturalmente, però dobbiamo premettere che la Juniors è andata bene. Un campionato ha vinto due giornate in anticipo, migliore difesa, migliore attaccante, di tutto e di più. Si è persa la finale, pazienza. L'anno prossimo cercheremo di vingerla, se io ci sarò naturalmente.